leopoldo mandic che cos'è la trasfigurazione commento è un fenomeno di teleplastia come le stimmate per il quale uno strumento si trasfigura nel viso e talora cambia le dimensioni del corpo assumendo le apparenze di un'altra persona chi scrive anni fa fu testimone di un fenomeno di teleplastia per cui lo strumento del cerchio umanità in movimento domenico p nel giro di qualche minuto assunse le sembianze del confessore san leopoldo mandic che si sovrapposero alle sue grazie